Raga, mancano, mancano 15 persone 3, 2, 1 Io, io vi giuro che è sclero Ma nulla ha senso se poi non ci sei te Vieni via con me Ciao, io sono Alice E oggi andremo a fare una cosa bruttissima Cresi, praticamente lui in questo momento è lassù Che si sta guardando un film, è nel divano che si sta riposando E mi ha detto che tra circa mezz'oretta così dovrà andare là sotto a registrare il video E io ho intenzione di fargli un bruttissimo scherzo Praticamente lui deve fare il video di Fortnite Non lo so, non capisco niente di questo gioco E voglio rovinargli questo video staccandogli il wifi Quindi adesso andremo là Ok ragazzi, adesso andiamo nella camera di Cresi Lui è là sopra a vedersi la serie tv Devo accendere la sua postazione Devo accendere il computer Mi ha detto che c'è un bottone Ecco, è un altro bottone qui Ok Oddio, si è acceso? Non si è acceso? Non lo so Si è acceso? Oddio che figata È la prima volta che accendo un computer E perché qui non si accende? Perché non ti accendi? E accenditi No, così mi sa che lo spengo di nuovo Vabbè, accendiamo intanto l'aria condizionata prima che... Ah, ma oggi è acceso Ok Io non capisco perché qui non si accende Oddio, non è che si è rotto Io ho paura No, così è spento Ma così è acceso? Oddio, raga Ah, ok Oddio, ma non è che si è bug Ma è normale sta cosa Cioè Boh Vabbè, non capisco niente Vabbè, non capisco niente Io l'ho acceso Poi se si è rotto Non mi interessa Io non ho fatto niente C'è il condizionatore acceso Tutte cose accese Ok Adesso vi farò vedere Dove Crazy tiene il wifi Ok Qui abbiamo il wifi Che è quello che staccheremo Eccolo qui E qui c'è la spina Questa qua E quindi noi staccheremo la spina E lui si metterà a sclerare sicuramente Perché boh Perché deve giocare a Fortnite Deve vincere Non lo so Non capisco niente Vabbè Andiamo a vedere se il computer si è acceso Ah, sì, si è acceso Ma io non capisco, raga Ma è normale Cioè Non capisco se si è buggato o meno Cioè Mi sembrava rotto Vabbè Ciao a tutti ragazzoni Ben tornati questo nuvissimo Ciao a tutti ragazzoni Ben tornati questo nuvissimo video Oggi mi hanno fatto Una sfida realmente estrema Mi hanno chiesto Ma Crazy Riesce ad aprire tutti i cavò Della partita di Fortnite In una sola partita Raga È realmente una sfida Molto molto impossibile No raga Non ci riuscirò mai Perché io Perché lo fai In realtà non so quando sta a carlo Perché Boh non so se si è stato Staccarlo a metà del video A metà quando lui Finisce di registrare O proprio per la fine Ok Nice Non lo so raga Con me è crazy Quando registra Mi fa sempre Ridere Ci siamo Ci siamo Ci siamo Uno pillato Ci siamo Ci siamo Uno pillato Uno pillato Raga raga È troppo difficile È troppo difficile Poi la cosa che mi fa ridere È che nei video Dice sempre Raga 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 Sì 80 anni Guarda non ci riuscirai mai Perché Ti so che lo vuoi fai Ora sono una cica Mala Raga Paralo Dice sempre raga Guardate Ora dice di nuovo Raga Guarda Guardate Raga 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 O dice raga O dice raga Guardate Uno Due Aspettiamo Voglio che dice raga È bellissimo Come dice raga No Non lo dice più Rip Ok raga Crazy è da qualche mezz'ora Che registra Ha fatto qualche dieci partite Non ci riesce Io non so veramente Quando staccare il wifi Che non lo so raga Un po' mi sento in colpa Però è veramente Una cosa impossibile Il video che sta registrando Perché ha perso davvero tante volte In questo momento Sta riprovando E io non so Veramente Quando staccare il wifi Perché non lo so Io non capisco niente Di fortnite Ma sono sicura Che si arrabbierà tantissimo Che comunque sta provando Tantissime volte E non so Quando staccarglielo Secondo me Mi lascerà Non lo so Andiamo a vedere Boh Non lo so Vedremo Guardate raga Sta ancora registrando Esatto Ho detto che è una challenge Impossibile Ci credo Aprire tutti i capoti In una partita È impossibile Raga Questo è l'undicesimo Tentativo Io mi ammazzo Non ce la faccio Un po' mi sento in colpa Un po' mi sento in colpa Perché se stacco il wifi Lui non riuscirà più a fare questo video Quindi non lo so Però ci sta Perché lui mi ha fatto tantissimi scherzi E mi ha fatto proprio Scherzi cruderi Mi ha buttato in piscina Mentre Mentre dormivo Quindi veramente Mi ha fatto cose cruderi E questo è il minimo Che posso fare Perché comunque Staccare il wifi Anche se staccare il wifi Durante una partita Mentre il registro Non è una bella cosa Però dai Ci sta Rip È morto di nuovo Non lo so Ha perso 12esimo tentativo Oh cavolo Raga Io mi sento sempre più in colpa Però Che ci posso fare Dai Uno scherzo Ci sta Pagano Perché Pagano 12esimo tentativo Mi sa che Ok Mi sa che tra poco Staccherò il wifi Al 12esimo tentativo Io stacco il wifi Ci siamo ragazzi Ok raga Quello che ho capito È a fine partita Quindi non l'ho staccato prima Però lo staccherò Tra moltissimo Andiamo Mancano Mancano 15 persone Mi sento un po' in colpa Mi sento un po' in colpa Perché lui mi ha fatto tantissimi scherzi Però crazy mad Non solo tu Puoi trollarmi Anche io posso Quindi 3 2 1 Vai Oh Ho sei bloccato Ho sei bloccato raga Oh Raga non mi fa muovere Non mi fa muovere Non mi fa muovere Non mi fa muovere Oh Forne Forne di schifo Dai Ciao amore È andata via la connessione Vero Come dire che è opera tua Perché ma da 20 video 20 video Che prova a registrare La challenge di aprire tutti i cavo Amore Sei stato trollato La challenge di aprire tutti i cavo La challenge di aprire tutti i cavo 20 video Sei stato trollato amore Spera per te Spera per te Accendi L'hai acceso Come fai No Prego Fa che non mi grascia Noi Fai schifo Fai schifo Vai Dai non ci vedo Ti prego Rivieni connessione Ventimiglia Sempre un canguro Quando rori No No Si è verificato un errore No 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 Sì amore opera mia No Come ci si sente ad avere tutti questi scherzi Questa è la mia vendetta Non ce la farò mai più Non ce la farò mai più No Cosa fa Non ce la farò mai più Poverino Poverino Avevo aperto tutti i due i cavo Poverino Avevo aperto tutti i due i cavo Di cattoprille No Ti prego Ma non solo tu vuoi farmi gli scherzi Anch'io posso amore Come ci si sente ad essere trollato Come ci sente proprio quel dolore Quella sensazione di dolore che si prova Vedi come ci si sente eh Amore Tu adesso vieni qua Allora io spero per te Che se metto continua Ti fa continuare Io spero per te Ecco ecco Vedi ho riavvio Pagliasce Pagliasce Amore Poverino No Io non ce la faccio Io No Cosa fai? Ma perché? Ma la sveglia Non ti ha fatto Prenditela con me Prenditela con me Tirala a me la bottiglia Tira il coraggio Tira da me 20 video 20 partite Quanti sono? No Proverini Non ce la faccio a me più ad aprire tutti i due i cavoli Non ce la faccio a me Amore Vedi questa bella faccina che ti ritrovi eh Questa bella faccina che ti ritrovi Subirà tanti di quegli scherzi Sì 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 Tanti di quegli scherzi Che non te la ritroverai più Senza sopracciglia Senza una parte di capelli Ma io non sono scema come te Che mi faccio trollare così Guarda pure le cuffie stai rompendo Guarda Guarda No ragazzi Allora Allora Io vi giuro che Sclero Vi spiego quello che stavo provando a fare Stavo provando a fare una challenge Per chi gioca a Fortnite Io non sto capendo niente Vabbè Dove praticamente aprivo Sia il cavo di cattogrill Sia quello dell'agenzia In un'unica partita Ah e anche quello della fortiglia Tutti e tre i cavo Cosa realmente impossibile O meglio Difficilissima Dopo 15 o 20 partite forse Dopo 15 o 20 partite forse Ce l'ho fatta raga Ce l'ho fatta E lei Mi ha staccato la wifi La wifi Il wifi Non la wifi Non si dice la wifi Cosa ridi Mi sono trollato Mi sono trollato Allora Per tutti quelli che Adesso stanno guardando questo video Scrivete qua sotto Hashtag scherzo per crazy Per alice Scusate Hashtag scherzo per alice E ditemi uno scherzo così crudele Ditevi uno scherzo così crudele Da fare a crazy Un altro Molto più crudele Mi sento male 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 Io non ci posso vedere 20 video registrato Ragazzi Ma vai Mi volevo accendere la porta Falli tu adesso 20 partite 20 partite a questo gioco Non lo fai No 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 Tu adesso rimani qua Finché tu non mi compri Di questa challenge Se non c'è video per domani Non ve la prendete E' colpa sua Se non esiste un video per domani Perché io non ho intenzione Adesso Alle 5 e mezzo O 6 Quello che Mi hai buttato in piscina Mentre dormivo Cosa vuoi Cosa pretendi adesso Cosa pretendi Ma non è lo stesso Di rovinare 8 ore di lavoro Guarda Sono 8 ore di lavoro I miei capelli Con la piastra Quindi Mi sono vendicata No No Non ci provare Non ci provare Non ci provare detto questo il video finisce qui mettete un like perché ne vale la pena in tutto questo crazy e triste no anzi scusa no perché mi hai fatto scherzi molto peggiori di questo questo niente ancora fatto gli scherzi che mi hai fatto tu e niente lasciate un like ogni giorno alle 12 nuovo video saluta amore saluta saluta ci vuole salutare perché è depresso ma adesso si riprende tranquilli lei non ha la minima idea che significa fare 80.000 partite ci vediamo domani ore 12 grazie mille no scrivetemi hashtag scherzi per alice scherzi per alice grazie a scherzi per alice ciao ciao grazie a scherzi per alice questo non ti faccio vedere io questa me la paghi no no me la paghi me la paghi me la paghi me la paghi questa me la paghi si 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 si